Ok, questo è il laboratorio di Lisa. Lisa, che stai facendo? Uh, cerchiamo tessuti, 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 tessuti. Qui combiniamo. Ah, questo si vede fucsia però, ma è rosso. Mischiamo, questa sta lavorando sulla nuova collezione, questa è la macchina da cucire. Qui ci sono tutti gli accessori, qui tutti gli accessori, qui tessuti, accessori estivi, qui c'è tutto l'invernale, qui, qui, qui. Questo è il notebook. Tanina, ma è il tuo compleanno, è il tuo compleanno. E cosa vogliamo fare per le amiche di Zianna? Vogliamo fare dal 5 al 25 di gennaio uno sconto sul 40% delle borse. 40% off in occasione del tuo compleanno. Stai dritta? Sono dritta. Ah, sono dritta. 40% off per il tuo compleanno dal 5 al 25. E sorridi? Sorridi. Allora, per tutti, voi andate su Etsy, cercate, guardate tutto il catalogo che c'è su Etsy, e dal 5 al 25 di gennaio il 40% off su tutta la collezione con il codice TANINA, però contattate Lisa tramite Whatsapp. Ciao! Ciao a tutti! Buon anno! In ferramenta? Sì! Il 40% off dal 5 al 25 gennaio, vi segno tutto quanto in descrizione, però il contatto deve essere via Whatsapp, ok? È chiaro? È chiaro? È chiaro? Sì! È chiaro? No, TANINA, tu! Va bene, è chiaro. Compleanno di TANINA. Festeggiamo TANINA. Elisa è disposta a dare questo 40% off. Di memorizzarvi quali sono le borse, ma insomma non c'è un grande problema. Basta andare su Etsy e scegliete la borsa, vi fate uno screenshot, eccetera, eccetera, mandate un messaggio a Lisa al numero di telefono che vi ho dato. Buon compleanno TANINA, anzi facciamo, sì, buon compleanno TANINA, bisogna scrivere, ok? Ciao! 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 Ciao, Diana! Ciao, ciao amore Ciao amore Scusami, ti ricordi che cosa hai detto per le borse di mamma? Dal 5 al 25 di gennaio lo sfrutto del 40% Ma perché? Quanti anni fai tu? 11 E tutte queste gambe sono due? Sì Come sei bella, ancora malattina questa bambina Con tutta la ferramenta, fai vedere la ferramenta? Bellissima, poi saranno tutti dritti questi denti, tutti dritti Ciao amore, grazie per questo sconto Ciao Ciao Chissà che cosa verrà fuori, nuova collezione Chissà cosa verrà fuori Chissà cosa verrà fuori, nuova collezione Chissà cosa verrà fuori